Incidente stradale questa mattina nei pressi del caseificio Il Granato a Spinazzo. Due auto si sono scontrate frontalmente, tre le persone coinvolte e nel sinistro stradale a scontrarsi una Hyundai e una Fiat 600, entrambe di colore bianco, tre le persone coinvolte. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 della Croce Rossa, Croce Gialla ed Emergenza Puglia di Piazza Santini e Licinella. Per uno dei tre malcapitati è stato necessario il trasporto in ambulanza presso l'ospedale di Battipaglia per la frattura scomposta di una delle due gambe, per gli altri due solo tanto spavento. Necessaria anche la presenza dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che sono dovuti intervenire sul posto per estrarre dalle lamiere il conducente. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli guidata dal capitano Fabio Lagarello per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.